ciao ragazzi e buonasera a tutti quanti bentornati nel nostro canale questa è la continuazione del blog del sabato pomeriggio sera praticamente e abbiamo preso la famosa spesa da tesco che online che a causa del coronavirus e della situazione che anche qui in uk sta un po precipitando soprattutto sui supermercati vediamo un po cosa abbiamo trovato o non trovato nella lista due pagine stampate di cui solo una di prodotti non disponibili vediamo cosa sono riusciti a portarmi allora tutto è pronto e queste non sono per noi ma sono per mia sorella sono costose probabilmente la gente non ha voglia di fare scorta di cose costose pane senza glutine cereali senza glutine cera latte per marco io lo uso questo ma giusto per macchiare il miso 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 frutella per fare i panini della settimana c'è da qui a differenza di londra non ci siamo fermati e qui continuiamo a lavorare mozzarelline buono questo scadogno sono riuscita a mettermi una sostituzione del che questo sarebbe esaurito ma mi hanno messo per fortuna la sostituzione del sapone piatti che tra l'altro abbiamo finito stasera non si trovava da nessuna parte di nuovo dovuto prendere l'alternativa più costosa perché tutto il resto è un mito questo è cruelty free quindi non è testato più gli animali costa un po di più e la gente non lo vuole quindi a volte non sembra proprio una questione di paura del virus sembra solo una spesa pazza e basta perché se sei preoccupato per il virus non vai a fare la spesa due volte al supermercato perché essendo un rischio delle vie respiratorie cosa vai a fare al supermercato in massa l'ultima volta c'era la coda fuori dal supermercato tutti ammassati pazzi ripeto non tutte queste cose sono per noi perché c'è anche per fortuna c'era l'insalata le zucchine buone appena finito in una settimana con le zucchine che abbiamo preparato pane per marco questo sì mi serve una uova meno male bene ho finito fatto la torta anche oggi la anna e poi se marco viene qui vediamo si può vedere un po di vita per fortuna sono arrivati i mandarini i limoni le arance per fortuna questo c'è queste sono arance siciliane tra l'altro i biscotti cioccolato per maria cioccolata per maria cioccolato di maria gli snack pensavo di dover andare al lavoro ma non ci vado quindi non li mangerò neanche i biscotti ancora snack sono sempre snack senza glutine ok beh insomma qualcosa è arrivato dall'anno avanti queste sono tutte cose che non sono arrivate 16 articoli non sono arrivati il totale della spesa io l'avevo fatto per 15 giorni ma mi sa che qui andiamo avanti molto meno il totale doveva essere 140 qua siamo a 65 beh tra l'altro qualche giorno fa siamo andati a prendere questa lettiera per i nostri amici e anche lì assurdo hanno svuotato il pet's at home che era il negozio di cose per animali non c'era più le tira allucinante uno scaffale intero un reparto addirittura cosa dici tu Miju? il gatto con il frac guantini una bella camicia bianca il patrina manca gli spinaci il tofu la cartigenica la cartigenica è un argomento veramente delicato perché quando stavo ancora in ufficio la settimana scorsa i miei colleghi avevano esaurito la cartigenica non sapevano più cosa fare perché nei supermercati non se ne trovavano più e io gli ho detto giornali asciugamani noi per fortuna ne abbiamo per circa un mese e mezzo noi siamo a posti anche la carta a casa però non è che l'acqua non c'è il tofu non c'è la cartigenica non c'è dischetti di cotone non c'è l'acqua non usa la zucca gelata non ho il sapone per le mani non ne parliamo abbiamo biscotti senza glutine niente la crema per il riso niente riso niente perfetto noi l'acqua l'acqua vi facciamo vedere di solito compriamo eccola qua l'acqua è finita anche qui compriamo per dirvi la Ashbeck Tesco eccola qui noi ci troviamo molto bene con questa qui no più che altro perché l'acqua del rubinetto qui è veramente c'è molto calcare molto sale anche soprattutto per l'embollitore perché così non ci sono residui no perché noi dicevamo che l'acqua di Padova non è buona venite a provare questa poi ne riparliamo infatti all'ondra avevamo l'acqua del amici qui non so che acqua sia però non è buona l'acqua abbiamo questa scorta qui ne abbiamo una due tre quattro comunque la scorta che avevamo preso ancora tempo fa non era necessariamente per questo periodo qui ma per fortuna che l'abbiamo vedo in una borsa possiamo lasciare tutte queste cose bene ragazzi noi vi salutiamo qui vi lasciamo alla vostra serata non so quando uscirà questo video perché adesso li sto facendo così per noi oggi è sabato oggi sabato 21 marzo questi vlog usciranno quando usciranno non sono in programma però si tenevamo a tenervi al corrente qui anche della situazione in UK ovviamente se c'è qualcosa che volete chiederci o sapere lasciatecelo nei commenti qui sotto chiaramente se vi piacciono i nostri video lasciateci il like e iscrivetevi che aiuta il nostro al nostro canale a crescere ecco noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao